Ciao a tutti e bentornati a Cosmopolinerd Ok, manca ormai pochissimo alla fine di The Falcon and the Winter Soldier e dopo ciò che abbiamo visto alla fine della quarta puntata ormai ci stiamo chiedendo tutti quanti ma dov'è Steve Rogers? Cosa sta facendo Steve Rogers? Tornerà Steve Rogers? Sarà presente in The Falcon and the Winter Soldier? Hmm, chi lo sa? Quindi mi raccomando, ci saranno un sacco di spoiler all'interno di questo video sulle prime quattro puntate di The Falcon and the Winter Soldier e su Avengers Endgame perciò se non l'avete visti, scappate come delle lepri e devo anche fare il video delirio alert perché per cercare di rispondere a queste domande che vi ho posto che vi state ponendo anche voi ci sarà un sacco di delirio ovviamente un sacco di robe sui viaggi nel tempo realtà alternative, diramazioni, timeline eccetera ma prima di tutto c'è una cosa che dovete fare ovvero iscrivetevi al canale YouTube di Cosmopolinerd cliccando sul tastino iscriviti e attivando la campanella delle notifiche anche sul cellulare che è sempre una cosa importantissima e se vi piacciono le robe folli e i viaggi nello spazio tempo vi piacerà anche questa maglietta firmata Pumpling sito di magliette e articoli nerd trovate il link al sito in descrizione a questo video se volete il 20% di sconto su ogni articolo presente sul sito e per ogni vostro acquisto e da qui l'eternità usate il mio codice personale vero COSMO e non ve ne pentirete bene, ciancio alle bande Avengers, uniti! anche se secondo me Steve Rogers non apparirà in The Falcon and the Winter Soldier nonostante ci sia stato promesso un cameo molto importante nel quinto episodio perché The Falcon and the Winter Soldier mi sta dando queste vibes ovvero come se ci volesse comunicare che il presente post-blip non sia più un'epoca in cui un simbolo come Captain America possa attechire ecco, ci possa essere più una persona veramente così pura, così pulita così mai pronta a scendere effettivamente a compromessi per ottenere ciò che vuole ottenere nella serie Captain America ovvero Steve Rogers ha sempre ottenuto i risultati eroici che ha ottenuto in modi eroici e non è che il fine giustifica i mezzi non è mai stato così nella vita di Steve Rogers invece a quanto pare nella realtà post-blip ciò è imperante in un presente del genere in un tempo simile Captain America non ha più ragione di esistere non c'è il bianco, non c'è il nero è tutto e solo esclusivamente grigio mi viene da dire sfumature di grigio ahimè purtroppo quel romanzo e quella serie cinematografica mi ha rovinato questo fantastico modo di dire tuttavia lo devo usare per forza con The Falcon and the Winter Soldier però ci piace sognare, no? ce ne meritiamo anzi di sognare un po' e se quel cameo del quinto episodio fosse proprio Steve Rogers Old Steve Rogers versione Clint Eastwood effettivamente perché quanto assomiglia la versione invecchiata di Chris Evans a il fantastico Clint Eastwood e se arrivasse davvero Steve Rogers in The Falcon and the Winter Soldier beh, dobbiamo fare un po' di chiarezza prima parlando di almeno due teorie due teorie non su The Falcon and the Winter Soldier bensì sulla fine di Avengers Endgame ovvero di che cosa ha fatto Steve Rogers da quando lo vediamo super in forma what'ha a quando lo vediamo un pelo in carta pecorito ma sempre figherrimo nonostante abbia più di 100 anni complimenti portati veramente benissimo ecco, due teorie che non sono mie queste due teorie c'è la visione dei fratelli russo ovvero i registi di Avengers Endgame e non solo e la versione dei due sceneggiatori di Avengers Endgame e voi dite ma come hanno lavorato tutti e quattro allo stesso progetto e non vanno d'accordo su che cosa abbia fatto Steve Rogers tra ci vediamo fra 5 secondi e sono un vecchio ma ti porto lo scudo chiaro Falcon, prendi tu le redini della situa allora qua si parla di una timeline avete visto anche nel trailer di Loki nel caso in cui non fosse bastata la spiegazione che dà l'antico interpretato da Tilda Swinton proprio in Avengers Endgame c'è questa timeline la timeline è il trascorrere del tempo che è lineare appunto nel caso in cui succeda qualcosa nelle regole del viaggio del tempo portateci appunto dall'MCU avviene una diramazione nel senso dal momento in cui si cambia qualcosa all'interno della timeline principale avviene la nascita di un'altra timeline di un altro ramo di un'altra diramazione ecco che poi diventa una sorta di realtà alternativa che continua a scorrere ecco quando i nostri eroi all'interno di Avengers Endgame sono andati indietro nel tempo per recuperare tutte le varie gemme dell'infinito prima che Thanos se ne appropriasse che cosa è successo? sono andati a crearsi varie diramazioni dalla timeline principale una per ogni insomma modifica del passato ok poi sono state utilizzate le gemme per riblippare le persone per far tornare tutti gli scomparsi durante il gap di cinque anni e chi sei visto sei visto tutto bene quel che finisce bene è morto Iron Man però Thanos scompitto ma che cosa fa nel finale di Endgame Capitan America? va indietro nel tempo a risistemare ogni singola gemma dell'infinito ok abbiamo lì Steve Rogers con il Mjolnir che nel frattempo va anche a riportare al posto giusto il Mjolnir ovvero il martello di Thor che imbraccia in una scena super iper mega epica proprio durante Avengers Endgame e questo Funko Pop ce lo testimonia ricordiamoci lo scudo di Capitan America è stato rotto proprio da Thanos quindi quando torna indietro nel tempo per mettere a posto tutte le gemme dell'infinito torna con una valigetta con le gemme dell'infinito e il Mjolnir lo scudo è stato lasciato così credo sul campo della battaglia non ha lo scudo Capitan America ok ci ricordiamo che in Avengers Endgame che cosa succede? ci sono i viaggi nel tempo attraverso il regno quantico insomma tutta la tecnologia tutte le scoperte di Hank Pym ovvero Michael Douglas che abbiamo conosciuto nei primi due film di Ant-Man e quando Ant-Man torna dal regno quantico all'inizio di Endgame mette tutti al corrente di questa tecnologia e vanno a fare tutte le robe che vanno a fare che vi ho detto prima proprio questa tecnologia viene utilizzata da Steve Rogers per portare indietro nel tempo tutte le gemme dell'infinito eppure il Mjolnir ok? ok lui teoricamente dovrebbe tornare dopo 5 secondi dalla sua sparizione rimette le gemme dell'infinito a posto tutto il tempo che gli serve tuttavia nel presente trascorrerebbero solo 5 secondi e ci sono gli Smart Hulk ovvero Hulk intelligente mix umano insomma ve lo ricordate in Avengers Endgame tanto vituperato ecco Falcon eppure Bucky Winter Soldier ormai deprogrammato tuttavia non torna dopo 5 secondi il nostro amico Captain America o meglio torna ma su una panchinetta su una panchinetta ormai anziano e con lo scudo uno scudo integro decisamente diverso rispetto a quello che aveva precedentemente ed è stato rotto durante la battaglia di Thanos e questo scudo nuovo integro viene dato a Sam colui che dovrebbe diventare secondo la volontà di Steve Rogers proprio il nuovo Captain America ok molto bene intanto mi sto dando le manate nei capelli benissimo qual è la divergenza tra gli sceneggiatori di Avengers Endgame e i registi di Avengers Endgame allora noi sappiamo che Steve Rogers è invecchiato perché ha trascorso un po' di quella vita familiare di cui gli aveva raccontato tanto Tony Stark in compagnia della sua amatissima Peggy Carter quindi dopo aver sistemato tutte le gemme dell'infinito e il Mjolnir se ne è tornato negli anni 40 e lì ha vissuto una splendida storia d'amore per anni con Peggy Carter ok dov'è sta il problema? secondo me e secondo i fratelli russo perché io e i fratelli russo non so se lo sapete siamo così praticamente nel momento in cui ha messo a posto tutte le varie diramazioni della timeline perché ha messo a posto appunto le gemme dell'infinito la volta che lui va all'interno della timeline principale negli anni 40 e decide di stare con Peggy Carter in quel momento lì crea una nuova diramazione della timeline principale perché secondo ciò che sappiamo della vita di Peggy Carter nella timeline principale lei non ha sposato Steve Rogers non ha generato figli con Steve Rogers e quelli insomma i suoi nipoti non sono nipoti di Steve Rogers eccetera eccetera no per quanto ne sappiamo lei ha sposato un uomo che è stato salvato dagli atti eroici di Steve Rogers ma non Steve Rogers tuttavia non sappiamo assolutamente il suo nome ok quindi secondo i fratelli russo appunto nel momento in cui Steve Rogers decide di stare con Peggy Carter dagli anni 40 in poi crea una diramazione e vive la sua vita familiare felice proprio all'interno di quella diramazione e quando poi noi lo vediamo alla fine di Avengers Endgame utilizza una delle fialette delle particelle Pym ma adesso ci ritorno sopra che gli erano rimaste di scorta per tornare nella timeline principale e dare uno scudo a Falcon che appartiene alla diramazione ovvero alla realtà alternativa che si è fatta fare Peggy Carter da Howard Stark o che si è fatto fare lui da Tony Stark di quella di quella realtà alternativa magari una realtà alternativa che è andata esattamente identica alla realtà principale perché lui se ne è rimasto in incognito varito di Peggy Carter oppure no oppure andata in maniera differente non lo sappiamo finora e forse non lo sapremo mai tuttavia torna nella realtà principale dalla realtà alternativa dalla diramazione che ha creato e consegna a Falcon lo scudo proveniente dalla diramazione ovvero dalla realtà alternativa teoria questa dei fratelli russo è quella che a me piace di più effettivamente perché non so se vi ricordate ogni spostamento da un punto A a un punto B nello spazio tempo richiede l'utilizzo di una fialetta di particelle PIM quando Iron Man Cap e Ant-Man tornano indietro al 2012 ovvero dopo la battaglia di New York in cui esistono coesistono più gemme dell'infinito contemporaneamente e Loki per un attimo di distrazione riesce a rubare il tesseract e a spostarsi da qualche altra parte conseguenze del gesto che scopriremo poi nella serie dedicata appunto a Loki in arrivo dall'11 giugno su Disney Plus e ve lo devo dire non vedo l'ora nel caso in cui lo sapeste ecco che cosa succede praticamente loro hanno bisogno di tutte le gemme dell'infinito quindi devono tornare in un altro punto del passato in cui sanno esserci il tesseract peccato però che Steve Rogers Iron Man e tutti quanti siano stati dotati solo di abbastanza fialette di particelle Pym per fare un viaggio di andata nel passato e di ritorno nel loro presente ecco però se Iron Man se Tony Stark e Steve Rogers devono andare ulteriormente nel passato per prendere il tesseract devono usare chiaramente le fialette con le particelle Pym e non ne hanno poi abbastanza per tornare indietro ok che cosa fanno scelgono di andare nel 1970 dove riescano a trovare sia il tesseract che delle altre fialette di particelle Pym ma per quanto ne servano soltanto due una per Tony Stark e una per Steve Rogers per tornare nel presente vediamo Cap prenderne quattro perciò ne usa due e due rimangono in saccoccia a lui il che ci spiega come avrebbe fatto a viaggiare poi nel 1940 per stare con Peggy Carter Forever and Ever e come ha fatto poi come vi dicevo prima a viaggiare dalla realtà alternativa creata dal fatto che lui torna nel 1940 per stare con Peggy Carter alla realtà attuale alla nostra realtà timeline principale e consegnare lo scudo a Falcon tutto chiaro ok che vi rendo conto che possa essere un po' un caos tuttavia questa è la teoria dei russo ovvero che se cambi qualcosa dei registi di Endgame e non solo se cambi qualcosa all'interno della timeline si genera una diramazione quindi una realtà alternativa che possa essere la dislocazione spazio-temporale delle gemme dell'infinito che sia Steve Rogers che sta con Peggy Carter che sia insomma una sorta di versione alla sliding doors che avresti potuto prendere il tram invece si è andata a piedi e praticamente la realtà si è sdoppiata sostanzialmente ecco questa è la visione dei russo invece gli sceneggiatori di Endgame hanno un'altra visione ovvero sì la timeline principale sì le varie diramazioni che si vengono a creare solo quando c'è una dislocazione nello spazio-tempo o meglio soprattutto nel tempo delle gemme dell'infinito cioè se la gemma dell'infinito è il 4 febbraio del 2012 lì e viene presa e portata nel futuro ed è assente quindi dalla realtà principale perché il fatto che tu le prenda va a creare una diramazione automaticamente ciò crea casini tuttavia non esclude la possibilità che non solo la dislocazione delle gemme dell'infinito vadano a creare diramazioni ma anche cambiamenti all'interno del passato della timeline ecco comunque Steve Rogers è andato come ha detto ma io mi fido la parola di Steve Rogers a riposizionare tutte le gemme dell'infinito al loro posto nel momento in cui cioè venivano prese ecco tra l'altro un viaggio che sarebbe bellissimo da vedere ma credo non vedremo mai potremmo solo immaginarlo esiste solo e unicamente la timeline principale perché tutti i vari branch tutte le varie diramazioni che si erano create con la dislocazione delle gemme dell'infinito nel momento in cui vengono messe a posto smettono di esistere ecco però questo vuol dire che Steve Rogers è andato nel passato della timeline principale e che quindi come a generare una sorta di loop è lui colui che è sempre stato il marito di Peggy Carter non è mai stato un uomo salvato da Steve Rogers bensì lo stesso Steve Rogers e quindi contemporaneamente durante la fase 1 durante la fase 2 durante pure la fase 3 del Marvel Cinematic Universe c'erano due Steve Rogers uno in azione e un altro che dopo la sconfitta di Thanos è tornato indietro nel tempo e ha vissuto in pensione e soprattutto nel pieno anonimato vicino a Peggy Carter questo è possibile che nessuno l'abbia mai riconosciuto che nessuno si sia mai reso conto ma quello lì che vive il nostro vicino non è veramente identico a Captain America perché ok si può essere tinto ai capelli può aver cambiato nome può aver falsificato dei documenti può aver fatto tutto quello che volete ma se da vecchio è così identico a quando era giovane vuol dire che non è che ha fatto una ricostruzione facciale che gli ha sconvolto i connotati in modo da non essere più non essere più riconoscibile ecco c'è da dire che se nell'universo di Sea Clark Kent basta indossare gli occhiali e toglierli per trasformarsi in Superman e mai nessuno si rende conto che sono praticamente identici tranne per gli occhiali tutto è possibile nel mondo supereroistico ecco quindi possiamo anche pensare a spiegazioni un po' naif e quindi sostanzialmente quando vediamo Steve Rogers alla fine di Endgame non è altro che semplicemente invecchiato all'interno dell'unica timeline che c'è l'unica timeline insomma quella principale ecco e quindi non ha più utilizzato le due fialette di particelle Pym che aveva sgraffignato nel 1970 ecco ok ma quello scudo lì quello che dà a Falcon dove l'ha preso chi gliel'ha dato chi gliel'ha fatto e cioè fosse stato uno Stark sarebbe stato super cosciente no di farglielo vabbè quindi queste sono le due teorie sceneggiatori versus registi non so secondo voi chi vince ecco tuttavia da quando l'abbiamo vista alla fine di Avengers Endgame Steve Rogers che cosa ha fatto? ottima domanda io propendo per la teoria Umarell nel senso che è andato nelle balere nel senso che non so gioca a burraco nel senso che è andato a osservare gli scavi per sei mesi mi direte voi eh sì perché anche secondo me nella realtà alternativa nel caso in cui ci fosse una realtà alternativa Peggy Carter è morta perché stando a tutti i vari conteggi di blip non blip andato indietro andato avanti roba eccetera eccetera Steve Rogers avrebbe tipo 108 anni comunque più di 100 anni voi mi direte ma dovrebbe essere morto e no avendo assunto il siero del super soldato ci sta che magari sia più longevo rispetto a tutti gli altri ecco che si morirà prima o poi per vecchiaia ma molto più in là rispetto a una persona normale senza il siero del super soldato secondo me a prescindere dal fatto che sia sempre stata all'interno della timeline principale o provenga da una timeline alternativa ecco è rimasto per questi sei mesi nella timeline principale a osservare un po' che cosa succedeva no che cosa aveva intenzione di fare falcon con lo scudo vede falcon prendere lo scudo che gli ha dato non utilizzarlo non assumere l'identità di captain america e quindi lasciarlo all'interno della mostra permanente allo smithsonian proprio su captain america ok steve rogers può aver pensato ok non se la sente lo parcheggia lì quando poi sarà pronto lo prenderà ok poi ha assistito in diretta nazionale in tv al fatto che l'abbiano dato a john walker john walker comunque con un curriculum di tutto rispetto un eroe di guerra sembra una persona retta moralmente che ha dato dimostrazione di coraggio di forza di giustizia no nel corso di tutta la sua carriera da soldato e quindi steve rogers può dire ok intanto comunque il valore di una persona la si vede a prescindere dal fatto che sia potenziata da un siero o semplicemente umana no perché le doti per essere captain america provengono dal cuore non dai muscoli che cosa clichettosa che ho appena detto visto che insomma la smattata di john walker che prende a scudate quel poveraccio dei flag smashers insomma quel poveraccio quel tizio dei flag smashers così e si vede l'immagine dello scudo il simbolo del simbolo per eccellenza della libertà della giustizia dei valori strepitosi macchiato di sangue grondante di sangue ormai divenuto simbolo di una violenza senza controllo e mo è chiaro che steve rogers se sta guardando e entra in azione ma non che va lì a picchiare di brutto john walker no va semplicemente lì a parlargli a cercare a cercare di farlo ragionare in un modo o nell'altro perché ricordiamoci che l'evento così è stato ripreso da decine di cellulari quindi è andato in mondo visione in tempo zero non vi dico probabile ma è possibile e sarebbe coerente con il personaggio con lo steve rogers che conosciamo che lui vada a far ragionare a spiegare che cosa vuol dire essere capitano america proprio a john walker perché john walker mi ha fatto un po' di tenerezza perché lui lui vuole fare del bene lui vuole salvare le persone però è troppo debole non è abbastanza forte per poter ricoprire un ruolo come quello di captain america non è psicologicamente pronto a gestire tutte queste aspettative e soprattutto il fantasma di steve rogers che aleggia su di lui di cui è consapevolissimo non sarà mai all'altezza potrebbe arrivare un confronto tra steve rogers ormai anziano e john walker impazzito che solo attraverso delle parole di conforto di un'icona perché indubbiamente steve rogers è l'eroe per l'eccellenza anche dello stesso john walker ecco quindi solo questo confronto steve rogers che parla a john walker può convincere john walker a smettere lo scudo a smettere i panni di captain america e lasciarli a chi se lo merita decisamente di più perché per come è stato costruito per come è stato caratterizzato il personaggio di john walker all'interno almeno di questi primi quattro episodi di the falcon in the winter soldier tra parentesi molto molto bene non mi sa di uno che adesso va a seminare morte e distruzione così perché non appena si riprenderà un attimo e si accorgerà perché in parte se n'è già accorto di ciò che ha compiuto si sentirà mortalmente in colpa e il fatto di sentirsi mortalmente in colpa potrebbe farlo impazzire ancora di più tuttavia secondo me c'è un po' di redenzione per questo personaggio non ce l'hanno dipinto cattivo punto sin dal primo istante e anche adesso nonostante ciò che ha compiuto continua a non essere cattivo punto quindi secondo me un incontro con il suo idolo un incontro con steve rogers potrebbe veramente farlo ragionare in un modo o nell'altro e poi chissà sarebbe interessante se steve rogers si rendesse conto che non è più l'epoca per capitan america e fosse proprio lui a distruggere il simbolo del simbolo per eccellenza quindi distruggere lo scudo quindi nessun capitan america io che sono capitan america mi rendo conto che nessuno di voi è pronto per essere capitan america e per evitare che venga sporcato e dissacrato per un'altra volta ancora questo simbolo lo distruggiamo perché non può più essere il tempo per capitan america pensate la forza di un avvenimento del genere capitan america che distrugge il suo stesso scudo cioè pazzesco oppure sarà falcon a diventare capitan america e se non bastasse soltanto una persona per gestire tutto ciò sulle proprie spalle e lo diventassero falcon e winter soldier assieme e da lì il titolo di the falcon and the winter soldier sarebbe molto interessante è chiaro tutto ciò potrebbe succedere anche senza l'intervento di steve rogers ma se intervenisse steve rogers perché c'è in una situazione del genere lo steve rogers che conosciamo riuscirebbe a starsene con le mani in mano no dovrebbe intervenire per forza perché lui è troppo retto è troppo giusto per sbatterse ok stare in pensione mentre ci sono gli eroi e l'altra sua versione che sia della timeline principale o della timeline alternativa che fanno robe eroiche mentre lui osserva comunque nell'ombra diciamo così ma adesso che c'è solo e soltanto lui può veramente starsene dietro le quinte senza intervenire in alcun modo la mia risposta è no perciò se c'è steve rogers disponibile in qualche modo lo vedremo comparire o nel quinto o nel sesto episodio di the falcon and the winter soldier quindi staremo a vedere e voi che cosa mi dite ci sarà steve rogers negli ultimi due episodi di the falcon and the winter soldier o non lo rivedremo mai più se questo video vi è piaciuto come è piaciuto al funko pop di captain america e alla delorean di ritorno al futuro firmata playmobile di cui trovate il link amazon in descrizione allora dovete fare sempre le solite cose vero mettere mi piace lasciare un commento iscrivervi al canale youtube di cosmopolitan attivando anche la campanella delle notifiche su in alto o giù in basso che è sempre una cosa importantissima altrimenti spostati captain america altrimenti ti investo giammai ok